buongiorno a tutti cari amici e cari pazienti ex consumatore di farmaci oggi cercheremo di rispondere ad una frequentissima domanda che spesso chi lavora in palestra si è sentito fare premesso che è indispensabile avere un piano alimentare semplice e bilanciato iniziamo a vedere un possibile piano di allenamento per ottenere questi due obiettivi però prima di tutto voglio anch'io approfittare di questo spazio per dire la più gettonata frase ipocrita del web tutto ciò che viene detto in questo video è puramente indicativo per qualsiasi informazione specifica contattare il vostro medico il vostro medico vabbè chiedete a lui su come allenarsi quali esercizi fare con quale modalità farli che intensità utilizzare magari chiedeteli pure qualche raguaglio di biomeccanica visto che ci siete ma senza dimenticarvi di chiedere dettagliati informazioni nutrizionali l'unica cosa che riescono a dirvi è la dieta migliore quella mediterranea cioè la pasta la pizza il pane ma in genere sanno di poco zucchero bianco mi raccomando poco zucchero dottore ma la pasta il pane cosa sono sono carboidrati carboidrati cioè chiedete dunque al vostro medico così vi richila l'ultimo ritrovato loro in questo sono bravissimi ineguagliabili farmachina chiudiamo la parentesi torniamo a noi e rispondiamo dunque alla domanda iniziale come organizzare un programma che coniughi tonificazione muscolare e riduzione del grasso corporeo per la modo di sintesi vi dirò fate un lavoro di tonificazione generale senza tralasciare alcun distretto muscolare e questo vale per chiunque uomo o donna che sia e qualunque sia l'età del praticante un lavoro muscolare di circa 20 40 minuti con un'intensità media significa un carico che vi consente di fare almeno 10 o 15 ripetizioni per le catene muscolari della parte alta cioè tronco e arti superiori e almeno 15 20 ripetizioni per i muscoli del bacino delle arti inferiori i recuperi dovranno restare entro il minuto significa che alla serie successiva avrete un battito ancora leggermente alterato rispetto al riposo non si attende la regolarizzazione totale della frequenza cardiaca per non interrompere eccessivamente l'intensità dell'allenamento visto e considerato che l'obiettivo ricercato è la tonificazione e non la forza o l'ipertrofia la forchetta temporale che vi ho indicato 20 40 minuti quale durata dell'allenamento muscolare comprende soggetti neofiti e con poca voglia di fare il lavoro muscolare soprattutto le donne o che hanno già livelli energetici di partenza già ridotti sedentari per esempio i soggetti in sovrappeso persone che non hanno abitudine a fare per esempio lo spuntino oppure persone di grande età tutti i soggetti che è bene che rimangono sulla fascia temporale più ridotta verso i 20 30 minuti per poi salire nella durata complessiva per i praticanti che hanno più voglia di fare o un livello di energia fisica e mentale maggiore o che riescono a seguire un minimo di programma nutrizionale adeguato a fare attività fisica insomma soggetti che dimostro di poter affrontare un percorso di 30 45 minuti di pesi senza star male con nausee crisi ipoglicemiche stati di spossatezza eccessiva e sintomatologie varie insomma di tipo neurovegetativo non mi dilungo ad elencare esercizi e numeri di serie che saranno libera interpretazione oppure oggetto di alta trattazione quello che dovete tenere sempre in considerazione è la durata complessiva dell'allenamento e ve l'ho appena indicata e i tempi di recupero anche essi già menzionati precedentemente quindi potete fare tutti gli esercizi che volete rispettando tempi e recuperi così come suggerito e ricordarsi di stimolare tutti i gruppi muscolari almeno una volta a settimana suddividendo magari in tre sedute per farvi un esempio semplice semplice arti inferiori bacino nella seduta tronco e arti superiori distribuiti negli altri due se poi doveste avere la possibilità di fare una quarta seduta di allenamento potrete benissimo allenare ancora una volta la parte che vi interessa maggiormente per esempio il gluteo per le donne e i pettorali per i maschilati e i macchietti così giusto per dire qualcosa detto questo non ci resta che capire come fare per la parte aerobica per bruciare quindi un po di grasso corporeo il metodo più efficace ma anche più razionale e cercare di ottenere un incremento del consumo del grasso corporeo ma durante tutta l'arco della giornata e non solo durante l'esecuzione dell'attività fisica la strategia migliore è incrementare la vostra potenza aerobica cioè creare tutta una serie di modificazioni organiche cellulari e metaboliche che vi consentiranno l'aumento dell'ossidazione degli acidi grassi nella pratica si può mantenere un'andatura sostenuta per tutto il tempo che avete impostato per esempio quei famosi 20 30 minuti che dovranno essere eseguiti con un ritmo che vi porti ad un affanno cardio respiratorio insomma dovete far fatica purtroppo per rispondere a questa domanda i tempi non sono sufficienti i tempi della rete mi impongono per oggi di chiudere qui l'argomento trattato e dunque per conoscere la risposta del quesito appena posto in evidenza non vi resta che guardarvi i video che trattano di attività aerobiche bene per oggi è tutto non mi resta che salutarvi rimandandovi ad un prossimo video ma non prima di avervi ricordato che il sapere potere e nelle scelte più conosci e meno sbagli viva l'informazione musica musica